Si è rinnovato, tra molteplici iniziative, il gemellaggio tra Gubbio e la città tedesca di Vertaim per un progetto che ha l'obiettivo ambizioso di dare al gemellaggio un'impronta più significativa dal punto di vista culturale e formativo. La delegazione eugubina Vertaim era composta dai docenti Maria Rita Angelucci, Giuliana Baldinucci e Fernando Sebastiani, da Lucrezia Rapo, funzionaria di Egina, il centro di formazione e progettazione di Foligno, che ha presentato il progetto, e poi da Francesca Preccolotti, funzionaria dell'amministrazione comunale di Gubbio, responsabile a scambi e progetti europei, oltre a Carlo Chianelli, ideatore del progetto. Scopo della visita? Quello di creare le condizioni perché le scuole di tutti gli ordini delle due città possano incentivare collaborazioni per le mobilità di studenti e docenti, ma anche attivare progetti che possano essere portati avanti anche da remoto, utilizzando l'inglese come lingua veicolare. Accolto da Cristina Moraitis, preziosa e autentica guida per l'intero soggiorno, il gruppo eugubino ha iniziato l'avventura in terra teutonica con la visita alla biblioteca della città assieme alla direttrice Katia Schmidt. Quindi il passaggio in comune con Ina Nolte, capo dei servizi del personale dell'istruzione della cultura, e Celia Seles Fernandez, dell'unità cultura, capo del dipartimento gemellaggi. Quindi trasferimento nella sede provvisoria della scuola Berufliches, dove la delegazione eugubina ha assistito a una lezione di italiano per adulti condotta dalla professoressa Ulrike Regan. Il giorno successivo, dopo aver visitato la nuova struttura della scuola diretta da Brewer Manfred, sempre con il supporto di Cristina, c'è stata l'interessante spiegazione sul sistema duale tedesco, compresa una visita a una fabbrica del vetro dove alcuni studenti svolgono attività pratica. Quindi spazio è la serata organizzata dal professor Fernando Sebastiani con i suoi amici del Lions Divertime, per un evento dove tra le varie iniziative esplorate c'è stata anche quella di tradurre in tedesco il libro del direttore di Umbria TV, Giacomo Marinelli Andreoli, nel segno dei padri, toccante storia legata ai 40 martiri di Gubbio della Seconda Guerra Mondiale. Quindi il giorno seguente la visita al Museo della Carta a Homburg con il direttore che ha illustrato passate presente della cartiera e con Evi Petzold che ha guidato la delegazione eugubina nel confezionamento di vari stemmi di carta. Questo fino ad arrivare all'ultimo giorno dove c'è stata la visita alla città di Wurzburg in Baviera, luogo dove a origine la strada romantica è il palazzo della residenza, riconosciuto da UNESCO come patrimonio dell'umanità. Da sottolineare come negli incontri serali, sempre accompagnati da apprezzati momenti conviviali, argomento trenante è stata la pace e la necessità di far sì che i popoli si conoscano e che i giovani immaturino la consapevolezza che niente può essere dato per scontato e sotto tale punto di vista è stato evidenziato la scuola può giocare un ruolo determinante per un mondo di rispetto, di tolleranza e di amicizia. Il gruppo Eugubino è così tornato in Umbria, rimanendo estremamente soddisfatto dell'accoglienza e organizzazione vissuta in terra tedesca con la volontà di proseguire il percorso intrapreso al fine di continuare a lavorare al progetto di far collaborare le scuole di Gubbio con tutti gli istituti cittadini che hanno già dato completa disponibilità assieme ai plessi di Vertime.